eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per sopportare questo aggiornamento giornaliero come previsto anche ieri sera nuovo update interno per quanto riguarda call of duty black ops 4 molti mi chiedono amante ma ci riporti sempre notizie di questi aggiornamenti di queste patch ma perché non ci fa fare un download ragazzi fateci caso quando voi lanciate il gioco dopo le 19 vi apparirà connessione ai server in corso e vi farà un download vedete una sorta di caricamento da 0 al 100% quello è un piccolo aggiornamento interno è una patch che va a migliorare il gioco sia per quanto riguarda all'interno sia per quanto riguarda appunto determinati fix sui server bene che cosa è successo con l'aggiornamento di ieri sera nel black market è stato risolto un problema in cui l'animazione non veniva riprodotta correttamente dopo una partita in cui non ci si era classificati mentre sono stati apportati come sempre miglioramenti generali alla stabilità su multiplayer blackout e zombies migliorate le score streak adesso il war dog di black ops 4 ha un rato di fuoco aumentato e una maggiore velocità dei proiettili ed è stata anche aumentata la velocità di fuoco e la durata dell'aereo con i due cecchini mentre per quanto riguarda il sensore acustico c'è stata una riduzione leggera del suo ratio di rilevamento del suo intervallo di rilevamento fixato finalmente un exploit in morocco dove praticamente i giocatori potevano andare sotto mappa infatti c'era un glitch veramente molto strano bisognava andare in un determinato punto della mappa con il rampino e si usciva ad andare sotto mappa finalmente è stato fixato è stato risolto un problema in creazione di una classe dove non appariva correttamente la mimetica reattivo inoltre è stato risolto un problema con la mimetica reattivo dell'MX9 i nomi di playlist lunghi ora vengono visualizzati correttamente nel menu multigiocatore mentre per quanto riguarda blackout è stata ridotta la possibilità di portare all'interno dell'inventario delle 9 bang delle cluster grenade da 2 a 1 è stato aumentato il tempo di ricarica della 9 bang ed è stato aumentato il tempo di detonazione della 9 bang inoltre ridotta anche la durata del silenzio di tomba a 120 secondi risolto un problema che si presentava quando lanciamo una partita personalizzata a multiplayer dopo aver giocato blackout e non funzionava correttamente ci sono state anche due correzioni su pc uno per quanto riguarda zombies che causava la scomparsa dei numeri al neonine blood of the dead mentre in blackout c'era un problema dove alcuni giocatori iniziavano addirittura con 200 punti vita se si utilizzava un kit trauma inoltre stanno analizzando tre anomalie all'interno del gioco le classi personalizzate di prestigio infatti sono consapevoli che le classi personalizzate 8 e versioni successive non funzionano correttamente per i giocatori che hanno raggiunto il prestigio 2 e successivo stanno verificando dei bug molto strani nelle sfide del multiplayer che non danno punti e progressi e stanno cercando di testare al meglio zombies infatti ci sono degli arresti anomali per quanto riguarda questa modalità questo tutto quello che è successo col nuovo aggiornamento interno arrivato ieri sera per quanto riguarda black ops 4 qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate lasciate un bel mi piace per supportare il tg informativo di call of duty e noi ci vediamo ad un nuovo video